Ben trovati, studio c'è la cronaca. Ancora un arresto nell'ambito dell'operazione boarding pass che ha fatto emergere un traffico di immigrazione clandestina dall'Africa al nord Europa. Questa volta un somalo è stato arrestato a Palermo. Continuano in tutta Italia gli arresti nell'ambito dell'operazione boarding pass. Gli agenti della squadra mobile di Palermo, in sinergia con i colleghi regusani, hanno tratto un arresto a Asci Yusuf Ali, somalo di 40 anni, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Catania il dottore Sebastiano Di Giacomo Barbagallo, su richiesta del procuratore capo e del dottore Giovanni Salvi del sostituto procuratore della Repubblica Lucio Setola, a carico di 48 soggetti tutti facenti parte di un'organizzazione criminale transnazionale specializzata nell'immigrazione clandestina. Il somalo, sottrattosi alla cattura il 15 gennaio scorso nell'ambito dell'operazione condotta su tutto il territorio nazionale, è stato individuato non appena rientrato dalla Svezia all'interno di un monitransfer in Internet Point in via Tommaso Fazzello, dagli accertamenti emerso che l'attività commerciale era nell'effettiva disponibilità dell'arrestato, già titolare di un altro esercizio a Padova, dove risideva durante il periodo delle indagini. Nello specifico l'arrestato, conosciuto dai suoi connazionali con l'appellativo di Eli Asci, molto vicino ai capi del Sodalizio, si prodigava per reperire i clandestini interessati all'acquisto dei cosiddetti programmi per trasferirsi dalla Somalia o dal Kenya nel nord Europa. Dopo le formalità di rito, Asci Yusuf Ali è stato tradotto presso la casa circondariale Occiardone di Palermo, a disposizione dell'autorità giudiziaria etnea precedente. Rinunciano al riesame i difensori delle società Baia Samuele Marsa Sicla, le due strutture sequestrate lo scorso 19 gennaio per traffico illecito dei rifiuti. Rinunciano al riesame i difensori delle società che hanno in gestione Baia Samuele Marsa Sicla, le due strutture ricettive sequestrate, lo ricordiamo, a metà gennaio circa per traffico illecito dei rifiuti. L'udienza si è svolta ieri al Tribunale del riesame di Catania. E sempre ieri si è svolta invece l'udienza che vede sul banco degli imputati la ditta di trasporto rifiuti Buscema, Giovanni Carmelo Servizi Ambientali di Modica coinvolta nello scandalo i cui mezzi erano stati sequestrati. Il difensore della ditta ha chiesto il dissequestro degli autocarri su cui i giudici dovranno ancora pronunciarsi. Le indagini svolte dai carabinieri e Capitaneria di Porto hanno tratto origine dai ripetuti episodi di inquinamento a mare riscontrati, soprattutto nella stagione estiva, nel tratto di costa in corrispondenza della spiaggia di San Piero e della Fornace che si affaccia sulla scogliera. Le fosse setti che pare spesso traboccassero spargendo liquami nelle campagne circostanti. Giunti presso le strutture di depurazione, i reflui fognari senza le previste autorizzazioni venivano stoccati e smaltiti illecitamente in dispregio delle norme di legge e materia ambientale. Il sequestro preventivo disposto dal GIP è finalizzato ad evitare che l'attività criminosa ipotizzata possa ulteriormente proseguire con i conseguenti danni all'ambiente circostante. Buone notizie per l'Università Iblea. Il Consiglio Comunale di Ragusa ha infatti approvato la bozza di accordo transattivo proposta all'Ateneo Catanese. Sentiamo. Approvata dal Civico Consesso di Ragusa la bozza di accordo transattivo che sarà esaminata nel pomeriggio dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo Catanese. Passo in avanti per il futuro della Facoltà di Lingua Ragusa. Ieri il Consiglio Comunale, riunitosi in seduta urgente, ha infatti dato il parere favorevole all'accordo che garantirebbe il mantenimento della struttura di lingue fino al 2027. Nella bozza il Consorzio si obbliga a corrispondere l'importo complessivamente dovuto per un totale di quasi 1.700.000 euro. La provincia e il Comune, con riferimento alla gestione e al funzionamento dei corsi di lauree attivati presso la sede di Ragusa, si obbligano a corrispondere in parti uguali attraverso il Consorzio l'importo complessivamente dovuto per un totale di poco più di 10 milioni di euro. La bozza avrebbe dovuto essere approvata da Catania lo scorso 28 gennaio, ma la data è slittata al pomeriggio di oggi poiché dal capoluogo Etneo è stata espressa la necessità di approfondire i termini dell'accordo attraverso il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione. Pare dunque che all'Ateneo Etneo si sia sentita puzza di bruciato e così si sia deciso di procedere con calma e con la massima attenzione. A destare delle perplessità sarebbero state le varie bozze di accordo pervenute sul tavolo catanese che presenterebbero delle differenze tra loro da approfondire e chiarire. E se per l'approvazione da parte del Comune si è reso necessario il passaggio dal Consiglio Comunale, la procedura è stata molto più celere per quanto riguarda quella della provincia. Ieri infatti il commissario Scarso ha dato il suo benestare all'accordo che, come dicevamo, è già approdato a Catania, da cui dipende il futuro universitario ibleo. Il secondo punto all'ordine del giorno della seduta urgente di ieri del Consiglio Comunale di Ragusa ha riguardato il Consorzio Universitario. Esaminata infatti la proposta di modifica dello statuto del cui proposta che, dopo non poche difficoltà, è stata approvata. Approvata la modifica dello statuto del Consorzio Universitario Ragusa, il Consiglio Comunale riunitosi ieri in seduta urgente per discutere della questione università, si è espresso anche in merito al secondo punto all'ordine del giorno e cioè la modifica dello statuto del Consorzio contenuta nella delibera del Commissario straordinario numero 27 del 22 gennaio scorso. Una discussione difficile e travagliata rispetto alla precedente e cioè l'approvazione della bozza di accordo transattivo. Nonostante una sospensione dei lavori per chiarirsi sul da farsi e una volta ripresa la seduta alla successiva richiesta di rinviare il voto in attesa di maggiori approfondimenti, la maggioranza dei consiglieri presenti ha deciso di proseguire con il voto che ha visto una corposa maggioranza favorevole alle modifiche avanzate. La proposta è stata infatti approvata con venti voti favorevoli. La modifica, lo ricordiamo, prevede la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 8 a 3. Per tali cariche non saranno inoltre previste indennità ma solo un rimborso delle spese. Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà poi composto da tre revisori individuati rispettivamente dalla provincia, dal comune e dalla regione siciliana. Infine, per quanto riguarda la carica di direttore, la modifica propone che essa venga ricoperta da un dirigente individuato tra i dirigenti pubblici alle dipendenze dei soci. Cerimonia in prefettura per celebrare la giornata della memoria. Consegnate due medaglie d'onore alla memoria di due cittadini iblei internati nei lager nazisti. Celebrate in prefettura la giornata della memoria. La ricorrenza, prevista per il 27 gennaio a causa della concomitanza con la festività domenicale, si è svolta oggi. La cerimonia in programma nei saloni di rappresentanza del Palazzo di Governo ha visto diversi momenti, filmati, canti, poesie e una breve conferenza sul tema. All'importante evento sono stati invitati i vescovi delle due di oggi di Ragusa e Noto, i sindaci dei comuni della provincia e i commissari straordinari del comune capologo e della provincia regionale, nonché i vertici provinciali delle forze dell'ordine, i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'arma. Celebriamo oggi il giorno della memoria, questa ricorrenza che cade il 27 gennaio ma la concomitanza con la giornata festiva ci ha indotto a prevedere un altro giorno ma l'importante è ricordare questo, questa orribile strage, questo genocidio degli ebrei che deve essere, il cui ricordo deve essere sempre indelebile nella nostra memoria. Si è poi proceduta la consegna delle medaglie d'onore conferite dal capo dello Stato alla memoria di due cittadini della provincia eblea, i signori Giovanni Gurrieri e Calogero Modica, che dai militari durante l'ultimo conflitto mondiale furono deportati e internati nei lager nazisti. Anche noi abbiamo la stessa sofferenza che dei suoi racconti, quei pochi racconti che ci ha dato e che ci ricordiamo e per cui oggi la riviviamo e che in questa giornata venga rivissuta ogni anno. Seminario a Ragusa dedicato all'agricoltura di eccellenza e alle nuove frontiere nella produzione degli ortaggi sotto Serra. Puntare sull'agricoltura di eccellenza. Grazie al progetto Lottagono che ha creato una rete di produttori e ricercatori, le imprese che hanno aderito hanno avuto la possibilità di sviluppare obiettivi comuni sfruttando protocolli innovativi nel campo dell'agricoltura. Si è arrivati a profigui risultati nella coltivazione di pomodori, pomodorini, zucchine, melenzane e peperoni e già la prossima settimana inizierà la fase di raccolta e di trasformazione. Si è dunque al giro di boa per il progetto, i cui risultati contenuti nella relazione intermedia sono stati presentati a Ragusa nel corso di un convegno che ha visto esperti e relatori a confronto, tra cui Edoardo Puccio, coordinatore di una delle azioni, Alfonso Sciortino, coordinatore scientifico, Fabio Danna, presidente dell'ITES. Abbiamo avviato la coltivazione sottoserra e spiegapucci e siamo già arrivati alla fase della raccolta e poi della trasformazione. Dai prodotti andremo a realizzare salse e patè, semi lavorati per altre filiere. Si tratta di un progetto che tende all'applicazione di ricerche già effettuate in passato che riguardano dei protocolli di coltivazione biologico, delle innovazioni per quanto riguarda i materiali di copertura, materiali pacciamanti e l'utilizzo di piante innestate. Questo per quanto riguarda la parte relativa alla coltivazione. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo che oggi alle 15.20, 17.40 e 21, andrà in onda la nuova puntata di 15 minuti con. L'ospite di oggi è Salvatore Zago, medico veterinario con cui abbiamo parlato della scelta di un cucciolo di cane e del suo arrivo in casa. Continuate a seguirci anche sul nostro sito all'indirizzo free tv online 1.it e sulla nostra pagina Facebook Free TV Comiso. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.